ciao ragazzi finalmente siamo arrivati all'ultima sfida all'ultimo chilogrammo insomma anche questa volta sarà una sfida da gustarci tutti quanti insieme da divertirci tutti quanti insieme insomma lo spirito della competizione è quello che sto cercando di ottenere in questa in queste sfide che sto organizzando come dice mario quanti sfidi sono già quattro quindi batti a vedere le altre tre se non le hai già viste perché ne vale veramente la pena lo spirito competitivo proprio si sente la forza dei ragazzi l'impegno che ci vogliono mettere che ci hanno messo insomma ci siamo divertiti veramente tanto quindi io poi sotto giù nel link c'è giù nelle descrizioni ti metterò il link per andarla a vedere ma ne vale veramente la pena ok ragazzi quindi siamo pronti ti spiego come partecipare a queste e qual è il programma e il modo per accedere bene ragazzi allora io spero che tu sarai parte dei nostri perché questa sfida sì le altre le ho sentite tutte ho sentito la competizione ho sentito la fatica ma questa questa sto già sentendo nell'aria proprio i ragazzi che si vogliono mettere alla prova vogliono capire quanto peso quindi quanto è il loro massimale quanto riusciranno a sollevare in una sola ripetizione quanti chili riusciranno a sollevare e il tuo massimale perché non me lo dici giù nei commenti fammi sapere qual è il tuo grado di allenamento e se per caso vuoi partecipare tra pochino ti spiegherò come fare in questa sfida allora la prima cosa che devo dirti e che devo dirvi a voi che volete partecipare sia online sta succedendo che in presenza vi voglio dire che la prima cosa è che io dividerò in categorie non l'ho fatto fino ad ora nelle altre tre sfide perché si trattava di sfide comunque a corpo libero dove ci si poteva mettere in gioco chiunque ma qui nella forza la devo dividere quindi da 0 a 25 anni dividerò la categoria ragazzi da 25 anni over ne farò un'altra e categoria donne quindi primo secondo e terzo classificato ragazzi primo e secondo e terzo classificato over ragazzi over diciamo così prima e secondo e terzo è classificata donne ma questo è successo anche nelle altre sfide categorie a donne è sempre era sempre a parte allora prima di andare avanti e di farti no anzi te lo dirò in ultimo quali sono i premi di questa sfida quindi che cosa devi fare per andare a partecipare a questa sfida anzi no però prima ti devo spiegare che cos'è di cosa si tratta la sfida bene la sfida la panca piana il bench press quindi proprio un classico il movimento corretto quindi movimento tecnico che tu devi fare e andare giù toccare come puoi vedere qui in questo esercizio toccare al pettorale e salire quindi chi tocca il pettorale poi riesce a risalire quella sarà la ripetizione conteggiata quindi proprio un must proprio il classico della panca piana ok mi direi mare ok voglio partecipare anch'io a quest'ultima perfetto allora come partecipare beh semplicissimo se vai giù in questo link che ti porterà direttamente a scaricare la mia applicazione che è completamente gratuita te la consiglio all'interno ci sono un sacco di tutorial video ricette che sono state fatte direttamente dal nutritionista ci sono consigli articoli che solitamente tu li trovi in applicazione che sono a pagamento io le lascio completamente aperte completamente libere ma se ti vai a scaricare questa ti porterà direttamente alla sezione basta che clicca il parteciperò a questa sfida bene ragazzi ti dovevo dire che cosa sono i premi guardo perché vedo se la registrazione non si è fermata allora i premi in questa premezione sono per il primo posto abbiamo messo un bello zaino palestra per tutti quanti i premi sono uguali per tutti il secondo posto ho messo un abbonamento mensile dei miei yogurt guardate qui un attimo questi yogurt buonissimi preparati e bilanciati perfettamente pre e post workout quindi per quando ti viene ad allenare e il terzo posto abbiamo messo un bel telo da allenamento palestra ok ragazzi quindi questa era l'ultima sfida l'ho organizzata in questo modo spero che ne farai parte se hai qualche domanda qualche dubbio scrivimelo sotto perché noi poi ci risentiremo in questi giorni perché ti porterò in avanti quindi nel caso vuoi sapere le anteprime come sta andando ti metterò ti metterò giù altri collegamenti per i miei canali quello di instagram al mio canale telegram e dimenticavo la cosa più importante di tutti ragazzi la cosa più importante di tutti di questa sfida ogni sfida ogni allievo che si metterà a fare la performance la sfida sarà una diretta quindi non ci sarà una diretta finale anzi o meglio ci sarà ma è solo per dire chi è stato il vincitore quindi attenzione se ti va di seguire il coach d'ora in avanti le programmerò ok ragazzi basta mi pare di aver detto tutto io spero di vederti nella mia sfida nell'ultima prima di chiudere la stagione che la chiuderò a fine luglio e ci vediamo alla prossima e allenati bene ciao 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 ciao